Il protocollo che è stato votato positivamente dai lavoratori è un protocollo che consegna al movimento sindacale e all'economia italiana una serie di strumenti per modernizzare il paese e per affrontare una serie di emergenze. Credo che nei prossimi scadenzi contrattuali sia a livello nazionale che a livello territoriale e di secondo livello saremo in grado di avere strumenti maggiori per affrontare le tematiche sulla competitività delle aziende, sulla regolamentazione della flessibilità. Credo che alcuni piccoli strumenti che oggi sono stati inseriti che riguardano la detassazione del salario variabile possano diventare invece una grande opportunità per rivalorizzare il salario dei lavoratori. Credo che con questo strumento possiamo pensare di incominciare a modernizzare l'Italia.